Ha fatto una sorta di richiamo alla Regione Toscana, chiede una maggiore presenza della Regione proprio in questa fase del PNRR. Cosa sta succedendo? No, la chiedo prima e soprattutto a me stessa in relazione anche con la Regione, cioè la volontà per cui se vogliamo sfruttare al meglio questa occasione del PNRR e anche le altre occasioni che abbiamo a livello di Governo centrale per la Toscana, dobbiamo fare più rete, più squadra e quindi essere più presenti nel senso più che fisico anche di decisione sulle volontà, sui temi su cui davvero vogliamo investire in modo che parlamentari, Governo, Regioni, Sindaci siano in qualche modo collegati su quelle che sono le sfide vere che ci interessano. Questo è il tema.